Una magica bussola Si dice che indichi una via per incredibili tesori Un vascello leggendario La nave pirata di Capitan Calavera E una ciurma con poteri incredibili Parla anche con gli squali Unisciti a Santiago e diventa anche tu un vero pirata Unitevi a noi E saltiamo in mare aperto Preparati a vivere incredibili avventure piratesche Nella nuova serie Santiago dei Mari Dal lunedì al giovedì la sera alle otto In prima tv Su Cartunito Anche su App Questo mese in esclusiva sulla Cartunito App Arrivano le nuove missioni della Kingdom Force In azione La miglior squadra di supereroi di sempre Non servono superpoteri per essere eroi Unitevi a loro e al possente Alphamec Nuovi imperdibili episodi Nuovi alleati Tanta azione e tanto divertimento In compagnia degli eroi della Kingdom Force In esclusiva sulla Cartunito App Sempre gratis e senza bisogno di registrazione Eh, ti dà un'aria Che è successo? Controllo subito il segnale Da marzo Boeing e Cartunito aumentano di qualità sul digitale terrestre Tutto sarà più chiaro e definito Per continuare a vederli Basta avere una tv o un decoder HD Se vedi canale 5 HD Sei già pronto a vedere Boeing e Cartunito in alta qualità Questa è successi Grazie a tutti.